Nel bel mezzo del marciapiede, come si vede in questa foto, oppure abbandonati a bordo strada, è già polemica ad un solo mese dall'attivazione sull'arrivo in città dei monopattini elettrici a noleggio, a far discutere, soprattutto sui social, i luoghi più o meno idonei dove vengono lasciati dal comune di Arezzo così un appello al buon senso e al senso civico. L'amministrazione comunale ha già comunque previsto una stretta sui controlli. L'uso del monopattino deve rispettare il codice della strada, quindi le norme che sono previste appunto nel codice della strada e sono quelle come per l'uso della bicicletta, quindi anche la sosta di questi monopattini al di fuori del centro storico deve essere comunque fermata appunto all'interno delle aree in cui c'è la sosta per il motorino e per le biciclette. Quindi non possono essere lasciate sopra marciapiede o nelle piste ciclabili e sono oggetto appunto di sanzioni da parte della polizia municipale. Invece all'interno del centro storico ci sono delle aree in cui è proprio localizzato e identificato con un AP in cui è possibile parcheggiare solo all'interno di quell'area appunto che è stata indicata. Quindi per quanto riguarda la sosta era proprio una parte prioritaria del bando quella di avere delle aree regimentate proprio da questo controllo e soprattutto non volevamo come amministrazione trovare le situazioni di disagio e di degrado che poi dopo si vengono a creare. Io ho già parlato con il comandante, ho già riferito quello che è le sanzioni che devono essere eseguite. Ricordo che ogni monopattino è identificato da un codice che equivale ad una targa ed in più è geolocalizzato. E soprattutto al momento dell'uso che ripeto è solo per i maggiorenni e non per i minorenni e soprattutto può essere utilizzato da solo una persona. Anche in questo caso ho visto che ci sono state delle situazioni che hanno usato in due, assolutamente no. Il monopattino è per uso singolo. Quindi parlando con la polizia municipale ho già dato le indicazioni ed in più... Si può risalire a chi ha preso quel monopattino ovviamente. Esatto, infatti dicevo proprio questo che quando viene utilizzato deve essere innanzitutto uno deve essere registrato attraverso una carta d'identità appunto dimostrando che è maggiorenne ed in più deve inquadrare un QR code che praticamente ti sblocca il monopattino e in quel momento viene anche percepito e capito chi è l'utente e quindi in qualsiasi momento qualora ce ne fosse la necessità anche a ritroso quindi su situazioni che sono emerse anche nel passato è possibile identificare chi è stato il trasgressore e chi ha creato poi dopo la situazione di disagio. Grazie.